Con il centroampista della pianese Gabriele Carannante, classe 1999, Gabriele, due giorni di riposo, oggi parte la preparazione, che partita è stata quella contro il Gozzano domenica? Ma contro il Gozzano domenica è stata, secondo me, una partita difficile, perché era una squadra del nostro stesso livello e diciamo che per come si era messa il punto, secondo me, è stato fondamentale. L'importante è, come sempre, non perdere e cercare di accimolare più punti possibili, soprattutto nei scontri diretti. Senti, la stanchezza oltre impegni una settimana avvicinati si è fatta sentire? È chiaro, sì, certo che si è fatta sentire, perché comunque noi siamo una squadra che viaggia tanto e quindi oltre alle partite si mette anche il viaggio e quindi la stanchezza diventa parecchia. Senti, te sei arrivato nell'ultimo giorno di mercato, sei di proprietà del Panna, sei in presto qui alla pianese, come va questo primo mese di ambientamento a Piancastagnale? Molto bene, dico la verità, mi trovo molto bene sia con i compagni di squadra che con il mister, soprattutto per gli allenamenti che facciamo, che sono tutti con la palla e diciamo che li preferisco molto rispetto al lavoro a secco e altre cose. Senti, fino a questo momento hai collezionato una presenza contro l'Albino Leffe, ci puoi dire le tue caratteristiche? Ma io sono un giocatore che a parte si mette a disposizione del mister e della squadra, poi mi ritengo magari un giocatore più di interdizione, anche per le caratteristiche e nei campionati che ho affrontato al sud, dove si predilige maggiormente l'aggressività del gioco e poi viene il gioco con la palla, anche se è la prima cosa. Senti, c'è qualche giocatore a cui ti ispiri? Mi piace molto Pogba, Milinkovic e Savic, ma sono altri giocatori. Senti, ora domenica ha l'altro impegno a Colosseto contro l'Alemento Sander 23, impegno sicuramente difficile, l'Atenese dovrà tornare a ottenere tre punti? Certo, diciamo che loro sono una squadra abbastanza forte, essendo il principale vivaio della Juve, giocatori tecnicamente fortissimi, che comunque secondo me magari possono peccare un po' di esperienza, essendo una squadra under 23. Però noi ce la metteremo tutta per fare bottino pieno domenica. Senti, per finire, obiettivo stagionale dell'Atenese e la salvezza, obiettivo personale di Gabriele Caranante? Spero di giocare le più partite possibili e magari qualche gol, speriamo, per aiutare la squadra ovviamente.